Gomis, infortunatosi all'esordio e fuori per tutta la stagione, e Pierozzi, atteso al rientro dopo un piccolo problema fisico, sono gli ex Sponda Rosa Nero che fanno parte dell'organico a disposizione di Alessio Dionisi e che è stato allestito da Morgan De Santis a sua volta ex del confronto insieme ai suoi collaboratori Giulio Migliaccio, bandiera del Palermo di Zamparini, e Simone Lo Schiavo. Sulla Sponda Grata gli ex del confronto saranno Giovanni Martuscello, Rosa Nero per uno scorcio di stagioni a cavallo del 2000, e Gianluca Petrachi che indossò la maglia del Palermo nel 94-95, giocando insieme a Maiellaro, Rizzolo e Giacchini tra gli altri, oltre a Ciro Ferrara, uno dei Granata più presenti e vincenti della storia. Gomis è fuori caos ormai, Pierozzi non dovrebbe rientrare tra i titolari e così il confronto Rex si sposta fuori dal campo. In panchina Giovanni Martuscello proverà a dare continuità alle ultime prestazioni dei suoi, che hanno messo insieme due pareggi senza gol, ed hanno evidenziato dei sensibili miglioramenti nella fase difensiva, compensati da qualche passo indietro sotto l'aspetto realizzativo. In tribuna invece sarà la sfida a distanza fra DS, Petrachi e De Santis si sono incrociati ai tempi della Roma, in estate il DS Leccese è tornato in pista a Salerno accettando una sfida non facile, ed ha dovuto cedere tanti calciatori, alcuni dei quali ingaggiati proprio da De Santis. Pirola, Lovato, Cionadi, Acastano a 5 mesi, hanno portato o porteranno liquidità alle casse Granata, mentre Legoschi è stato ceduto in prestito secco agli svizzeri di Liverdon. De Santis a Palermo ha portato a Enrique, avrebbe voluto ingaggiare già durante la sua esperienza in Granata, ed ha allestito una squadra che ha la missione di conquistare la Serie A, sostenuta come da tantissimi tifosi e dalla solidità del Citigroup. L'avvio di campionato ha visto partire meglio dai blocchi la Sargentana, che nelle ultime settimane ha smarrito la via della vittoria, ed è stata staccata dal Palermo che ha tre punti in più, ma che in casa non ha mai vinto. Domenica sarà una bella sfida, ancora più gustosa, viste le motivazioni degli ex coinvolti. Domenica sarà una bella sfida, ancora più gustosa, viste le motivazioni degli ex coinvolti. Grazie a tutti.